Da giovedì a domenica Pesaro ospita Pop Sofia, festival della filosofia e del contemporaneo. Per parlarne è in collegamento con noi in diretta la direttrice artistica Lucrezia Ercoli. Buongiorno, allora il tema di quest'anno è gli amati mostri, in che senso? Sì, il tema di Pop Sofia 2023 a Pesaro è amati mostri. Non a caso abbiamo scelto come immagine grafica il minotauro, il mostro per eccellenza, che unisce il corpo umano alla bestialità, all'animalità della testa di toro. Ecco, in questo confine sfuggente, staranno queste quattro giornate di Pop Sofia Pesarese, cercheremo di comporre la nostra fenomenologia del mostruoso contemporaneo, come in pieno stile Pop Sofia, prendendo esempi dal cinema, dalle serie tv, dai fumetti, dai videogiochi, dalla musica, per cercare, insomma, di capire oggi chi sono i mostri. Ecco, infatti, il vostro concetto di mostruoso, vedendo gli incontri, ha varie sfaccettature. Si va dai serial killer, ma anche Vasco Rossi, ad esempio. In che modo tenete insieme tutto questo? Scegliamo sempre un tema ambivo, contraddittorio, in modo da far discutere pubblico e ospiti. E in effetti, nei confronti del mostro abbiamo questo duplice atteggiamento, anche nel linguaggio. Appunto, il mostro è il serial killer, ma anche il mostro dell'atletica, il mostro della musica, coloro che eccellono in qualche attività. E il nostro atteggiamento è ambiguo perché li amiamo e li temiamo, ne abbiamo paura e ne siamo meravigliati. Allo stesso tempo, probabilmente proprio il carattere dell'eccezionalità ci attrae, no? Con il mostro e quindi anche con i fenomeni pop che lo raccontano, cerchiamo di evadere dalla normalità, dalla banalità del nostro quotidiano e della nostra vita. Ecco, a questo serve l'immaginario della pop Sofia. Lei ha detto, ne siamo ammirati in qualche modo. C'è il rischio con serie tv che raccontano vite di criminali, ad esempio, di rimanere affascinati in qualche modo dal male? Anche questo sarà un tema del festival. La spettacolarizzazione del mostruoso che mette alla berlina, deride poi molto spesso anche le nostre diversità. Ecco, chi è il mostro? Molto spesso non è solo il cattivo, ma anche il diverso. E la filosofia deve servire proprio per metterci in guardia, anche dal linguaggio dei social, no? Così polarizzato tra i nostri amici da un lato e dall'altro lato i nemici, i mostri che dobbiamo combattere. Ecco, la filosofia ci dà gli strumenti critici proprio per analizzare questi fenomeni e anche capire perché ne siamo così affascinati. Le chiedo in un flash, c'è un appuntamento a cui tiene particolarmente? Teniamo particolarmente alle tre serate in piazza di Pesaro, i tre filo show musicali prodotti in esclusiva da Pop Sofia con la nostra band. Iniziamo dal fantasy, poi sabato sera Vasco Rossi e in chiusura i mostri della Disney nel centenario dei cartoni animati che hanno animato la nostra infanzia. Allora, grazie a Lucrezia Ercoli per essere stata con noi. Pop Sofia da giovedì a domenica a Pesaro. Grazie mille. Grazie a voi.